Ciao a tutti Creeper, io sono Celofy e quest'oggi sono qui per introdurvi il nuovo fantastico server del regno di YouTube, ovvero il regno di Minecraft. Come sapete da poco ho chiuso il mio server Celofy Craft per crearne uno più grande e più epico in 1.18, ovvero la nuova versione di Minecraft con tantissimi plugin e datapacks, ma soprattutto in questo server giocheranno tantissimi youtuber che sono i soci del regno di YouTube, per esempio MrTeliant, Master, GiacomoV07, Zerk, eccetera eccetera, trovate la lista completa nel nostro sito, il link è in descrizione. Ok, adesso è il momento di farvi sapere un po' meglio in cosa consiste il server. Questo è lo spawn, è una roba assurda che ha costruito interamente il mio admin plan, complimenti perché è un capolavoro, tutto bellissimo, enorme e spettacolare. Per prima cosa ci sono gli shop, ovvero i negozi, qua potete comprare e vendere merce ai villager utilizzando gli smeraldi, partendo dai minerali, verdure, ma anche chiavi per le crates e oggetti molto oscuri e misteriosi. Ma cosa sono le crates? Le crates sono delle casse che puoi aprire utilizzando le chiavi e dentro le quali potete trovare incredibili ricompense come libri incantati ma anche artefatti come tridenti, bastoni magici e tantissime altre cose. Purtroppo a differenza del vecchio server ancora non esistono i duelli, però al momento c'è l'arena pvp dove potete combattere. In più il mondo ha tantissimi plugin e datapacks come ho detto prima, infatti potrete esplorare un mondo con biomi davvero bellissimi e tutti coloratissimi e customizzati. Vi accendo anche che potete combattere dei mostri molto diversi da quelli normali e anche costruire con blocchi assurdi. Arriviamo alle cose più importanti del server, infatti il bello sarà costruire con i vostri amici, il server è Java ma SP, quindi tutti i vostri amici potranno entrare e costruire insieme a voi. E ovviamente grazie a un semplice sistema per cremare, i vostri nemici non potranno griffare a casa vostra e neanche attaccarvi. Però se siete comunque appassionati di pvp potrete combattere i nemici nelle zone aperte del mondo. Guardate lì che roba, questi qua non degli ancient che tipo gli fanno sparare i missili dall'arco, vi li rendete conto? E poi potrete adomesticare qualunque animale esistente per renderlo un vostro pet. Tutto questo ragazzi è soltanto una piccola parte di tutto quello che c'è nel server, quindi cosa state aspettando? Entrate nel nuovo server 1.18 e divertitevi, l'ip lo troverete proprio qui. Ah e mi raccomando, rispettate le regole, sennò vi banno subito.